benvenuti amici di tv city a questo nuovo speciale misteri di oltre la storia questa sera abbiamo una puntata dedicata alla geometria sacra e ai misteri sul del simbolismo e lo facciamo con un nuovo ospite maria grazia lopardi che incontreremo subito dopo la sigla quindi restate collegati che incominciamo la puntata eccoci qui ben ritrovati abbiamo con noi maria grazia lopardi ciao maria grazia buonasera sì maria grazia vive a vive all'aquila e adesso vi faccio vedere subito una breve biografia e ha lavorato nell'avvocatura di stato nel 2014 è stata insignita dell'oniferimento dei grandi ufficiali della repubblica è il presidente dell'associazione pantaree di promozione sociale che offre conferenze convegni e seminari per lo sviluppo della coscienza ha scritto tantissimi libri e come vedete già dal fine degli anni 90 ha raccontato storie sulla geografia geometria sacra e quindi oggi parleremo proprio di questo con lei per rispondere a tutta una serie di domande e temi che fanno parte proprio di quest'aspetto un po misterioso che ci riguarda ecco maria grazia allora partiamo subito da questa geometria geografia scusa questa geometria sacra scusami cosa hai che intendi per rispetto a geometria sacra e perché l'uomo insomma noi dobbiamo nel passato aver vissuto questo periodo in cui utilizzavamo segnali e insomma per per raccontare delle cose intanto grazie dell'invito geometria sacra è un'espressione che fa riferimento a un particolare simbolismo un simbolismo che troviamo nella natura rispecchia io dico le idee del creatore come si rendono visibili nel nostro mondo quando parliamo per esempio di rapporto aureo il rapporto che più esprime la bellezza o quando parliamo di figure particolari come la stella 5 punte la stella 6 punte la cosa incredibile come già aveva rilevato Galilei è l'alfabeto con cui il creatore ha scritto il libro dell'universo e non è un caso che la geometria sacra quella che ha proporzioni particolari che ha angoli che vengono i sacri è stata utilizzata dai costruttori che avevano la conoscenza per l'edificazione delle chiese gli antichi avevano chiara l'idea che edificare una chiesa significa reiterare l'atto della creazione per cui doveva presentare le stesse leggi che il grande architetto ha inserito nell'universo perciò la geometria sacra a questo a questa specificazione perciò è sacra anche perché esprime in modo particolare la bellezza quella che la nostra anima capta immediatamente al di là di tutte le spiegazioni che poi diamo ai simboli facciamo un esempio concreto tu mi hai mandato questa immagine di questa chiesa e quindi anche dalla sua planimetria in particolare questa chiesa dove si trova e perché è importante rispetto a quello che stai raccontando la basilica del di collemaggio nella mia città all'aquila voluta da un personaggio su cui ho molto scritto celestino quinto è una costruzione meravigliosa particolarissima anche solo nella geometria della facciata ma la cosa particolare il suo pavimento quando si entra all'interno ci sono una serie di simboli più obiettivi nella loro interpretazione mentre le figure possono essere soggette a diverse interpretazioni i simboli geometrici sono archetipici sono simboli che abbiamo dentro sono gli archetipi per eccellenza sono i simboli pitagorici che hanno un significato molto preciso in oriente di queste esatto in oriente in occidente e allora il pavimento della basilica di collemaggio con la sua successione di simboli mi ha letteralmente parlato perché vi ho letto il messaggio che era stato impresso dagli antichi costruttori per i quali ho una una stima straordinaria nella basilica c'è anche la firma degli antichi costruttori è un testo di alchimia impressa nella pietra è un vero e proprio cammino evolutivo dalla materia allo spirito e quando si percorre quel pavimento si mira a fare esattamente quel cammino poi ho voluto dare un'altra lettura più prettamente cristiana vedendo nei tratti di pavimento sono come grossi rettangoli che si ripetono la prima volta per cinque volte lo stesso fatto di losanghe poi appaiono le croci poi appare l'ottagono la stella ottopunte poi ancora il cerchio ancora c'è il quadrato della manifestazione insomma vi ho visto anche le tappe della vita di gesù per cui è una sorta di imitatio cristi che non è solo sapere che prima si è battezzato poi ha camminato sulle acque poi è morto in croce e così via ma è un percorso da fare e ancora una volta è un percorso alchemico cioè di trasformazione due chiavi di lettura a seconda di chi recepisce le mie parole le mie spiegazioni ma con lo stesso identico significato e qui c'è mandato anche un dettaglio di come poi si rappresenta un gioco solare adesso lo facciamo vedere nel sostizio d'estate giusto ce ne sono due di giochi solari che ho riscoperto semplicemente seguendo un impulso che mi ha portato nei giorni giusti in particolare il 21 giugno al sostizio d'estate il 15 agosto il giorno dell'assunta a curiosare che cosa combinava il sole dovete sapere che fino agli anni 70 l'interno della basilica era stato ricoperto da una struttura barocca la storia dell'aquila scandita dai terremoti il terremoto del 1703 ha provocato danni in quell'occasione si è ricoperta la basilica di struttura barocca e negli anni 70 un coraggioso sovrintendente coraggioso perché è stato criticato moltissimo mario moretti ha levato la sovrastruttura barocca è riemersa la chiesa delle origini romanico gotica e i rossoni erano allora diventati ciechi perché il soffitto era più basso dei rossoni stessi non entrava più la luce con questa diciamo ripulitura e che molti hanno criticato ma già solo per questo per aver fatto rialzo lo ringrazio appunto il sole è rientrato e ha incominciato a esprimersi come allora nell'immagine precedente se la puoi mettere appare questa a sinistra il gioco solare del sostizio d'estate allora c'è un tratto di pavimento che ho chiamato il labirinto perché c'è un vero e proprio percorso fatto da tre otto che si intersecano la cosa straordinaria che gli stessi costruttori hanno lasciato delle piccole incisioni per indicare un percorso ebbene al sostizio d'estate quando tutte le tradizioni celebrano lo sposalizio fra il principio solare e il principio acqueo visivamente si assiste a queste nozze il sole va a colpire i cerchi del labirinto immaginiamo il sasso buttato nell'acqua che forma una serie di onde la vedete un disegno ma la cosa incredibile che quel disegno non è quello del pavimento anche se va a finire sul pavimento è un gioco di luce e ombre realizzato dal rosone che pure appare come un merletto quello a destra invece è il gioco solare dell'assunta la chiesa è dedicata a maria assunta osservate un particolare con il terremoto del 2009 è crollata la parte del transito vedete sopra c'è una copertura provvisoria ed è crollato l'arco che sorreggeva i grandi pilastri e questo crollo ha permesso al sole che prima era parzialmente bloccato dall'arco era stato ricostruito in linea con il soffitto barocco che era più basso quindi anche l'arco era più basso avevo osservato che il sole in parte si poggiava sull'arco in parte riusciva raggiungere il finestrone che vedete in fondo all'abside con il crollo questa cosa è venuta meno e il gioco solare appare nella sua magnificenza veramente qualcosa di commovente perché prima si vede il sole che cammina lateralmente prima hai fatto vedere ecco un'immagine vedete è anche basso come far raggiungere al momento clou la sommità del finestrone dove c'è un fiore a otto petali e si va posizionare esattamente sul fiore e appare la vergine avvolta nel suo manto di luce incoronata dal sole incoronata dal figlio esattamente come si vede in un affresco al lato della basilica nella navata destra dove si vede la dormizione di Maria Maria che ascende al cielo con il suo corpo fisico un'espressione per eccellenza della spiritualizzazione della materia secondo il linguaggio alchemico e viene incoronata dal figlio questo avviene e questa è la paria commovente nel momento del tramonto il sole raggiunge quel punto appare quell'immagine un istante dopo tutto si spegne il sole tramontato come non avere ammirazione per questi costruttori sì in effetti quando uno entra in una chiesa in tante situazioni si ritrova a non conoscere proprio il metodo di costruzione e i significati nascosti che si volevano dare proprio anche banalmente uno entra e non si accorge che il pavimento è tutta una serie di simbolismi no l'abbiamo fatto vedere prima una persona che non conosce questa cosa non comprende qual era la voce che voleva essere data a queste a queste cose quindi ecco il simbolismo serve anche a questo a far capire cosa si voleva esprimere in quel periodo là e perché poi usare questa forma simbolica cioè nel senso io non sono mai stato all'acqua se io dovessi entrare in questa chiesa fa se mi vuoi accompagnare cosa virtualmente quindi parto da questa scacchiera per poi pian piano muovermi all'interno del delle varie navate con la scacchiera la scacchiera sta lateralmente quando si entra ci si mette in un tratto di pavimento formato dallo sangue sono lo sangue costituite da due triangoli equilateri con gli angoli di 60 gradi se intanto vediamo la prima meraviglia la perfezione se si tratta ci hanno le diagonali di questa lo sangue le diagonali sono tra di loro il rapporto aureo che troveremo in seguito in tutta la basilica nella struttura della basilica le lo sangue i due triangoli esprimono un linguaggio ripeto universale il triangolo col vertice in alto è il principio attivo è il fuoco il triangolo con il vertice in basso è la coppa la recettività l'acqua e uniti insieme abbiamo un'acqua di fuoco un'acqua di luce come chiamiamo per esempio le acque mariane acque che hanno un potere trasformativo ebbene nel primo tratto c'è fra l'altro fra le poche tracce di affresco che sono rimaste una destina di giovanni battista leggendo in chiave cristiana questo simbolismo è l'immersione si scende infatti un gradino nelle acque del giordano ma in una chiave alchemica sono le acque mercuriali quelle da cui dice jung scaturisce la pietra la pietra dei filosofi che poi vedremo andiamo avanti c'è una particolarità credo di aver mandato un'immagine un disegno dell'architetto di prato gianandrea capecchi che veramente il cielo mi ha mandato perché io come avvocato no non è questo come avvocato non avrei saputo fare qualcosa del genere praticamente la chiesa si vede che è fuori asse lui è partito dalla linea delle colonne di destra e si è reso conto tracciando intanto la linea che passa per l'onfalos il punto centrale della chiesa tocca lo spigolo esterno da una parte lo spigolo esterno dal lato opposto ha visto che era ruotata a 27 gradi tracciando linee parallele a questa prima linea ecco che quelle linee posizioni di destra e di sinistra cioè tutta la chiesa è ruotata di 27 gradi e c'è un motivo di geometria sacra in questo 27 non so se è il caso di spiegarlo perché entriamo un pochino troppo nei dettagli magari poi ci perdiamo diventa anche un po' difficile farlo vedere però dal tuo punto di vista il 27 rappresenta un numero prima hai parlato del rapporto della sezione Aura ce lo puoi raccontare un attimino perché in tanti che magari non conoscono il significato 1,618 che esprime il cosiddetto fi questo fi è la lettera f nell'alfabeto greco l'iniziale del nome figlia perché figlia usava questo rapporto perché perché il rapporto della bellezza nel nostro corpo immaginando una persona totalmente armoniosa ci sono tutta una serie di fi di rapporti aurei ora il rettangolo aureo per eccellenza è quello che ha un lato di valore 1 l'altro 18 è stato fatto un esperimento con i bambini di fronte a tanti rettangoli è stato chiesto loro qual'era il più bello la maggioranza ha scelto proprio il rettangolo aureo dov'è nella basilica di Collemaggio? vi parlavo di questo disegno fatto dall'architetto Capecchi la cosa incredibile è che il tratto di linea che attraversa la navata centrale è il rapporto aureo con i tratti che attraversano sono le navate ruotata di ben 27 gradi che presenza la perfezione del rapporto aureo in ogni sua parte anche questo mi ha suscitato grande ammirazione per i maestri costruttori medievali se vuoi vado avanti nel percorso vado avanti nel percorso non ti preoccupare rispetto invece a questa planimetria che pure mi hai mandato cosa facevi riferimento? sì, qui ho evidenziato da una parte i simboli i simboli che sono disseminati lungo tutto il pavimento c'è una ricchezza di simboli notevole oltre fra l'altro la geometria delle forme in un altro invece ho evidenziato ancora non riesco a vedere se quella delle tappe della vita di Gesù oppure le tappe del percorso alchemico si arriva al punto della croce che è l'anigredo poi l'albedo nella risurrezione e la rubè che è espressa fra l'altro dall'immagine del finestrone la spiritualizzazione della materia sì, io da qua non riesco a vedere più quali immagini ho mandato comunque questo è il discorso dicevo dopo il primo tratto di immersione nelle acque mercuriali come si dice in alchimia vi è un ulteriore tratto ben altre quattro lo stesso di acque di fuoco di acque di luce di lo sangue ma c'è questa particolarità la rotazione della chiesa fa sì che non si vedano perfettamente allineate per cui sembrano proprio una superficie bagnata e allora si va a camminare sulle acque cosa significa in un percorso iniziatico questo? camminare sulle acque e avere il dominio, il criterio delle emozioni che sono energie non da sopprimere come avviene in alcuni cammini spirituali ma appunto da canalizzare sono quelle stesse energie che canalizzate portano all'illuminazione come insegna in particolare la tradizione hindù e arriviamo infine al tratto con le croci che ripete esattamente il disegno della facciata non so se riesci a far vedere siamo questa qui allora le croci sono in alto a destra a meno come vedo io in alto a destra è un tratto di pavimento che ripete il disegno della facciata e che è in corrispondenza della porta santa quella che si apre in occasione della perdonanza celestiniana che è il primo giubileo della storia cristiana e si entra dalla porta santa e ci si trova sul pavimento caratterizzato dalle croci le croci cosa rappresentano? rappresentano la mortificazio rappresentano in alchimia l'anegredo è lì che avviene una trasformazione della coscienza la cosiddetta morte iniziatica nella lettura della vita del Cristo è ovviamente la crocifissione ma in mezzo c'è un disegno particolare lo vediamo in basso a sinistra alla mia sinistra guardando lo schermo è una croce che ha smussato gli spigoli praticamente io l'ho chiamata fiore e croce allora dobbiamo considerare i simboli base abbiamo parlato del triangolo col vertice in alto e in basso questi simboli erano già individuati dagli antichi greci ripeto sono universali in tutte le tradizioni il quadrato rappresenta la manifestazione il quattro dei quattro elementi della tradizione greca il cerchio rappresenta lo spirito il cielo l'immanifesto lì abbiamo una figura che racchiude in sé sia il quattro i quattro petali diciamo di questo fiore sia il cerchio le croce hanno smossato gli spigoli sono tracciate quando si va a disegnare quel simbolo cosa che ho fatto sono dei cerchi che lo formano quindi c'è sia il quadrato che il cerchio Jung precisa che dalle acque mercuriali scatolisce la pietra dei filosofi rappresenta la pietra dei filosofi osservate che è l'onfalos della chiesa il punto centrale che ha la caratteristica di unire manifestazione e spirito in un linguaggio cristiano è il Cristo l'uomo e Dio contemporaneamente ed è l'elemento trasformatore l'attenzione degli alchimisti era prima di tutto di trovare la pietra dei filosofi senza la quale non è possibile la trasmutazione se andiamo nel tratto successivo di pavimento lo vediamo in mezzo in basso tutte le croci si sono trasformate in fiodi a quattro petali per di più intermezzate da stelle a otto punte che è la stella mariana per eccellenza quella che Maria presenta sul suo manto ma esprime l'eterno femminino se andate a cercare l'immagine il simbolo di star è una stella otto punte l'ottagono cos'è? una figura intermediaria fra il quadrato e il cerchio e rappresenta la materia spiritualizzata la materia che ha cambiato frequenza per farvi capire con immagini che sono abituali a tutti i battisteri in cui almeno in origine ci si immergeva nelle acque per rinascere mondi dal peccato originale quindi l'inizione di paradiso terrestre spesso hanno una base quadrata per esempio quello di Ascoli Piceno che poi diventa ottagonale e poi sopra c'è una sfera c'è sempre questo passaggio quadrato ottagono cerchio se consideriamo tanti campanili delle chiese medievali lo stesso partono con una struttura quadrata che diventa ottagonale e poi c'è un tetto a cono oppure semplicemente una sfera è sempre lo stesso cammino di spiritualizzazione dalla terra al cielo che si vuole evidenziare proprio come abbiamo visto nelle immagini tutto un percorso ecco lo rifacciamo rivedere così come ce l'ha raccontato ci hai proprio accompagnato attraverso proprio tutte le varie parti della chiesa quindi il cerchio è la conclusione di tutto è la conclusione è lo spirito è il paradiso celeste è la matrice l'origine le acque primordiali e la cosa particolare è che poi ricompare una figura legata al quadrato ai quattro lati è il ritorno al mondo e mi sono chiesta perché anche Gesù dice che ritornerà ma a me piace molto unire le tante tradizioni perché sono convinta che c'è un filo d'oro che le unifica tutte e in particolare il buddismo ci racconta del Buddha che pronto a varcare Vanak il paradiso buddista sente il pianto degli uomini ne avverte la sofferenza e dice che non avrebbe varcato quella soglia se non con l'ultimo degli uomini cioè lì iniziato ritorna nel mondo per compassione per aiutare gli altri e le aiuta però in una maniera particolare in quel tratto di pavimento compaiono delle stelle a sei punte che esprime il triangolo con il vertice in alto e in basso che si intreccia si intersecano la stella di Davide che rappresenta il perfetto equilibrio tra due principi l'iniziato ha conquistato la coscienza dell'unità non è più dilaniato da una coscienza dualistica per dirla con un'espressione semplice di fronte a delle scelte abbiamo il cuore che spinge da una parte la mente che dice no non si spinge dall'altra parte noi in mezzo ci troviamo dilaniati non è più la condizione dell'iniziato ho visto che tra i tanti libri che hai scritto uno che mi ha tirato particolarmente l'attenzione è quello del famoso rompicapo del Sator che è esattamente hai scritto proprio un libro dedicato proprio su quell'aspetto ce ne vuoi raccontare un attimino quale sono il simbolismo che si ritrova dietro a questo facciamo vedere anche il libro così magari a qualcuno sono tutti disponibili online in vendita giusto Maria Grazia ecco lo facciamo vedere eccolo vediamo eccolo qua questo è delle mediterranee ok ecco il quadrato magico di Sator ecco perché innanzitutto è magico cosa c'è di magico e quindi quali sono i simboli che sta dietro ecco lo facciamo rivedere un attimino qui il quadrato magico del Sator questo è il seguito architettura sacra medievale lo vediamo anche questo qui c'è il seguito quindi è stato scritto prima l'uno e poi l'altro ecco raccontaci un pochettino esattamente a mano a mano ma questa è stata la mia più grande intuizione che mi ha lasciato proprio tramortita faticavo a lavorare in quel periodo quando ho avuto questa intuizione sapete che il quadrato magico del Sator è questa scritta palindroma palindroma perché Sator repotene topera rotas si può reggere da sopra a sotto da sotto a sopra da destra a sinistra da sinistra a destra ed è un vero e proprio rompicapo un enigma che ha attraversato i millenni sappiamo che i romani lo conoscevano perché è uscito dalla grande palestra di Pestum si trova in Siria dove c'era un centro romano si trova in Galles sempre in ambiente romano ma nessuno ha saputo spiegare cosa significasse sono state date le interpretazioni più fantasiose di queste espressione fin quando ma questo mi è arrivato dopo fin quando non ho capito anche il senso della traduzione ora ve lo dico ma la prima cosa che ho fatto siccome ci ho giocato tantissimo con questo quadrato magico ho sostituito le lettere e i numeri anche lì è uscito qualcosa di incredibile comunque questo è di San Pietro ad Oratorium una chiesa vicino l'Aquila e si trova capovolto ci potrebbe segnalare che è una cosiddetta pietra semi come dice il grande agitologo De Liubitz è una pietra che presa da un'altra costruzione è piantata nella nuova costruzione questa è una chiesa che ha origini longobarde c'è la scritta regge desiderio fondata e poi nel 1000 è stata rinnovata e insomma perché esprima la potenza di quel simbolo nella nuova costruzione che cos'è il quadrato magico del Sator finalmente giocando ho unito le lettere tra di loro e ne esce fuori un quadrato in partenza è 5x5 le lettere ma unendole tra di loro esce un quadrato 4x4 ho incominciato prima a unire le vocali credo di aver mandato l'immagine se si ritrova facilmente e uscivano fuori dei simboli che io conosco i simboli della tradizione allora ho tracciato le consonanti ho unito tra di loro le consonanti altri simboli della tradizione ma allora questo ecco qui sono unite le vocali vedete simboli che ho ritrovato in giro con esattamente quel tracciato unendo le consonanti esce un'altra serie di simboli non so se riesci a farlo vedere se non li immaginiamo no qua è dove sono arrivata a tracciare a unire tutte le linee è stato sempre tutto un gioco ma sapete quel gioco in cui hai una condizione interiore un po' come quella dei bambini che stanno per scoprire qualcosa di meraviglioso io mi sentivo letteralmente così è uscito fuori una griglia molto simmetrica vedete sopra e sotto sono uguali destra e sinistra sono uguali e ho scoperto cos'è quella griglia e ve lo dice la traduzione letterale che ho fatto dal latino della famosa espressione Sator Repo Tenet Opera Rodas Sator prendete il vocabolario di latino vuol dire sia il seminatore che il creatore non so perché tanti interpreti hanno scelto il seminatore avendo poi problemi con Arepo addirittura si è disturbato una radice sceltica per farci uscire l'aratro niente di tutto questo Sator è il creatore Arepo è semplicemente la forma contratta di Adrepo verso cui tendo minchino onoro il creatore Tenet sostiene opera con la sua opera con la sua azione che attenzione è un'azione musicale vedremo Rotas le ruote le sfere celesti ora diremo anche nella fisica delle particelle lo spin insomma ci dice questa traduzione che siamo di fronte a un codice cosmico c'è qualcosa di straordinario in questo reticolo che è un altro simbolo presente molto nella tradizione la rete dei Wirt dei Celtici la rete di Indra in India il Tao che viene presentato come una rete nell'estremo oriente insomma è la rete che sorregge la creazione ed è proprio così perché in quel groviglio di linee c'è vogliamo il caos dove tutti i simboli sono compresenti ma basta evincere delle figure della geometria sacra vedete qui ho tracciato le stelline dove ci sono gli incroci delle linee ho tirato fuori una stella a cinque punte una stella a sei punte e così via praticamente vi ho visto il mondo delle idee di Platone le idee sono gli archetipi i pensieri di Dio utilizzati poi per dar forma alla creazione ed è esattamente questo che ho trovato nel quadrato magico del Sator un simbolo di una potenza straordinaria ecco io qua ce l'ho attaccato al collo lo tengo sempre con me perché rappresenta appunto il mondo delle idee da cui collassare uso apposta questa espressione della meccanico quantistica le figure le forme gli archetipi che voglio è un racconto affascinante perché sinceramente non mi era mai posto il problema e devo dire che è un qualcosa che ecco lo rifacciamo rivedere quindi il creatore verso cui tendo sostiene la sua miro sostiene con la sua azione le sfere celesti fantastico c'è proprio tutto il concetto dell'universo della creazione perfetto ti ho detto che opera la sua azione è un'azione musicale puoi farvi vedere se puoi farla vedere quella dopo questa no prima l'unione di tutte le lette esattamente questa questa sì questa allora perché è un'azione musicale le tradizioni ci dicono un po' tutte che in origine era il verbo cos'è il verbo è la parola è la vibrazione che ha la stessa radice di verbo e così nella tradizione hindu in tutte le tradizioni in Egitto delle volte è la risata sempre una vibrazione di pta che dà origine alla creazione o le parole magiche che escono dalla bocca di di Nate insomma all'origine è sempre la vibrazione cos'è questa vibrazione superando il fatto che stiamo ancora nel vuoto nel mondo al di là delle forme è un suono presente la linea mediana quella che unisce per esempio la T del primo rigo di Sator con la T di Rotas e qui ci conduce Pitagora Pitagora diceva studia il monocordo che è uno strumento con una corda sola noi consideriamo quella linea come la corda sola di Pitagora se andiamo a pizzicare quella corda sentiamo la nota che è il suono fondamentale ma sentiamo tanti sono gli armonici naturali che Pitagora dice danno ordine al creato sono questi armonici quella musica che trasforma il caos in ordine gli armonici cerco di spiegarmi in maniera facile se noi pizzichiamo la corda di una chitarra poniamo che sia do blocchiamo a metà la corda ha un rapporto di uno a due ho diviso la corda in due parti pizzico mezza corda è un do a un'ottava superiore la blocco a due terzi è un sol è la quinta musicale a tre quarti è una doppia ottava ho diviso ancora una volta in due sono i rapporti che Pitagora ha espresso nella sua famosa tetractis non so se puoi far vedere l'immagine è un triangolo praticamente composto da dieci punto poi in due no poi tre e poi quattro parli di questa non è questa no va bene comunque quell'uno due due tre tre quarto quattro esprimono proprio gli armonici naturali il rapporto uno a due è l'ottava musicale due a tre è la quinta musicale tre a quattro è la quarta musicale ebbene in quella linea dove si intersecano i rivali ci troviamo esattamente in quelle proporzioni praticamente quella ragnatela è il diffondersi del suono creatore ho capito forse vediamo se è questa che stai dicendo tu eccola qua esatto quella che vedete i dieci puntini è la tetractis pitagorica qui faccio vedere per quanto sia difficile vederla con chiarezza i nodi lungo la linea del tenet immaginato che quella fosse la corda da pizzicare dove si esprime l'ottava la quinta la quinta musicale e la terza la doppia ottava la quarta musicale quindi lì c'è il diffondersi del suono creatore ma c'è qualcosa di più andando a misurare con l'autocad considerate che sono un avvocato abbastanza ignorante in informatica ma era tanto il desiderio di conoscenza che ho imparato da sola l'autocad sono andata a misurare degli angoli mi sono resa conto che ci sono in quella griglia tutti gli angoli della geometria sacra che sapete danno sempre il 9 come insomma 9, 18, 27, 36 e così via quindi cos'era? Uno strumento operativo dei maestri costruttori che avevano lì già le proporzioni di cui avevano bisogno la costruzione sacra doveva essere una sorta di strumento musicale che doveva risuonare pensate al gregoriano per cui si usano esattamente queste proporzioni e allora cosa ho fatto per assecondare verificare questa intuizione ho messo sotto la griglia le piante di una serie di chiese per esempio quella di San Pietro Adoratorium dove c'è il quadrato magico del Sator risuona dell'ottava musicale perché è un doppio quadrato il rapporto uno a due altre molte altre della quinta musicale la stessa con le maggio risuona della quinta musicale e così via noi vediamo piante di chiese diverse alcune sono più strette più lunghe ma sono sempre tracciate considerando degli incroci di quella griglia la cosa più incredibile io non so disegnare non non sono un architetto non sono un geometra ma posso tracciare la cinque punte che ha i vertici di 36 gradi che è il cosiddetto triangolo aureo non a caso i 448 ovviamente faccio con l'autocad ma so i punti in cui devo andare a appoggiare le linee possiamo rivedere il disegno ecco la stella ho tracciato il cerchio nell'ambito del cerchio io so in quali punti andare a posizionare a posizionare le linee perché questa linea orizzontale che vedete io ero partita tracciando dei cerchietti nella mia poca competenza avevo diviso quella linea mediana prima in due cerchi per l'ottava musicale poi in tre cerchi per la quinta musicale poi in quattro cerchi per la quarta musicale e così via tracciando il cerchietto che esprime il rapporto di quinta musicale questa linea orizzontale che vedete esattamente si poggia su quel cerchio in quel punto la linea mediana la famosa corda è bloccata a due terzi nella quinta musicale quindi una figura geometrica che è difficile da disegnare io non conosco il metodo che si usa per tracciare con righello matita e quant'altro serve una stella a cinque punte che sapete che è il simbolo più sacro dei pitagorici è un altro simboletto che porto sempre con me ce l'ho attaccato al collo e lo posso fare in 448 per di più sempre io che sono avvocato che non so disegnare non ho competenze in geometria eccetera posso tracciare il rapporto armonico la pianta di una cattedrale possiamo tornare all'immagine di prima vicino alla stella cinque punte vedete questa è Chiaravalle della Colomba vado a visitare questa bellissima Chiesa Cistercense c'era disegnata la mappa forse ho ritirato nell'opuscolo che si trova nella chiesa trovo la pianta la metto sotto il quadrato magico che cosa scopro che tutta la pianta è formata da una stella a dieci punte cioè una stella a cinque punte col vertice in alto e una col vertice in basso che si dice che è malefica perché usata dai satanisti no non è affatto malefica tanto che le due stelle formano il decagono che è detto la firma di Dio il poligono di Dio e qui unendo i vertici della stella tracciamo un decagono ma che cosa mi ha colpito a me che i due vertici mi indicano la lunghezza della chiesa dove si incrociano le due stelle la larghezza della chiesa dove è la linea orizzontale della stella a sei punte con il vertice in alto lì finisce l'ausile la coda le due code della stella capovolta mi indicano dove finisce la chiesa cioè in un unico simbolo ho tracciato l'intera pianta di Chiaravalle della colomba se permettete questa cosa mi ha letteralmente commosso sì è un'altra cosa che pure volevo far vedere anche ai nostri amici perché fa parte anche di quello che ci hai condiviso come immagine è questa qui in cui si vede anche l'immagine dell'uomo che sta all'interno ecco questa qua la vedi? perfetto cosa ci racconti su questo? esattamente ho messo l'uomo vitruviano di Leonardo sempre sotto la chiesa dovete sapere andate a guardare l'immagine dell'uomo vitruviano a prescindere dalla mia griglia Leonardo ha segnato delle lignette sono esattamente le lignette degli armonici naturali per cui va perfettamente sotto la griglia ma vi dirò di più quando ho mandato la slide ho pensato vediamo cosa mi dice il cenacolo il famoso cenacolo di Leonardo ebbene parte da un doppio quadrato facilmente tracciabile nella griglia e non so se avete presente sopra c'è come un soffitto a cassettone quelle linee del soffitto che si allargano seguono le linee della griglia c'è Leonardo avevo motivo di rimanere fortemente meravigliato ora la facciamo anche vedere tu pensi che dietro questo ci sia un qualcosa che dobbiamo ancora perché in tanti l'ultima cena di Leonardo insomma ci vogliono nascondere tutta una serie di informazioni ecco la facciamo vedere giusto per capire vediamo se ci riesco allora facciamo così questa è tutta diretta non c'è nessun vediamo eccolo qua vai sì eccola ci siamo è questa? esatto vedete le linee di queste che sono aperture laterali finestre quelle del soffitto sono tutte linee che sono già nel quadrato magico cioè tracciarlo per Leonardo con questo strumento dare quelle proporzioni è stato semplicissimo poi sì qua ci sono tanti messaggi nel nascosti che sembra una donna potrebbe essere la mandalena la posizione ma anche il santo graal sopra il tavolo sono cose che sappiamo la divisione sì è abbastanza normale una coppa anche se la coppa è un simbolo del santo graal dicevo c'è un autore ora mi sfugge il nome che ha visto nella posizione dei pani che sono sulla tavola proprio delle note musicali anche lì viene sottolineata la musica che è anche per Platone l'arte per eccellente le arti perché da forma alla creazione io ricordavo così a memoria adesso non vorrei dire cose sbagliate che anche la posizione delle dita dei singoli apostoli rappresentavano potevano essere messi in un piano in una scala musicale questo non lo so sinceramente sinceramente non lo so so questa divisione a tre per tre praticamente sono i dodici segni zodiacali divisi divisi in gruppi di tre esattamente come sono i segni zodiacali in base a terra aria acqua fuoco insomma ci sono tante chiavi di lettura tu hai trattato in qualche libro proprio questo argomento specifico adesso andiamo un po' a braccio chiaramente mi ho trattato un poco non espressamente un testo su questo argomento però ho evidenziato appunto questo essere uniti tre a tre questo rappresentare dodici segni zodiacali e ci sono anche delle caratteristiche fisiche degli apostoli che fanno pensare a quei segni zodiacali ma la cosa che mi interessava di più erano proprio le proporzioni dell'intera opera che emergono splendidamente dal quadrato magico del Sator perfetto casomai questo poi potrebbe essere anche lo spunto per poterci risentire per approfondire questi temi perché ormai siamo quasi arrivati alla nostra conclusione e quindi volevo giusto raccontare con te l'ultimo argomento che hai insomma interessato sulle tue ricerche che è il labirinto la danza sul labirinto ecco rispetto a questo adesso hai scritto anche un libro che adesso andiamo a vedere ecco rispetto a questo cosa volevi raccontare su eccolo qua la danza sul labirinto bellissimo anche il labirinto che lo ritroviamo un po' in tutte le epoche e in tutte le grandi civiltà sono partita sempre dal labirinto di collegaggio esattamente la cosa più sconvolgente di questo simbolo che simile spesso a sette spire come quello credesse per dire lo ritroviamo in tutte le latitudini lo ritroviamo tra gli indiani opi per esempio che lo chiamano tapuat cioè la madre e il bambino molto simbolica questa espressione lo ritroviamo a Tintagel nel sud dell'Inghilterra dove c'è il castello il cosiddetto castello di Re Artù lo troviamo in tutte le latitudini nell'estremo nord lo troviamo in Africa ce ne parla Erodoto lo troviamo nella cosiddetta tomba di Osiride ad Abidos lo troviamo nella Cina e sono simboli antichissimi che risalgono alla prestoria perché l'uomo ha avuto sempre questa esigenza di tracciare questo percorso che poi soprattutto nel settecento è diventato un po' simbolo di un percorso dove ci si può perdere perché se avete presente i labirinti arborei settecenteschi ci si trova di fronte a bivi a diverse uscite a diverse possibilità di accesso mentre il labirinto preistorico che troviamo nelle monete cretesi particolare sia in versione circolare è unicorsale non ci si può perdere bisogna solo seguire quel percorso che è un progetto un progetto che ci porta verso il centro se vogliamo il labirinto è un cammino che va dalla periferia dal nostro ego fino al nostro centro il nostro sé la nostra parte divina e io in ogni mio libro devo mettere qualcosa di originale se no sarebbe semplicemente un saggio in cui prendo quello che hanno scritto gli altri e lo riporto no ci deve essere qualcosa di nuovo di creativo e che cosa ho fatto partendo dai miti iniziare dal più famoso di Tesea Arianna ma un altro mito in particolare mi ha interessato quello nordico ho indicato una diversa etimologia della parola labirinto che ci spiega che cosa è si si approfondiamolo proprio giusto come flash anche perché siamo come ti ho detto in chiusura non so se ti ho mandato sì praticamente normalmente si dice che viene da labris che sarebbe l'ascia di penne oppure labra che vuol dire grotta perché è legata è legato al simbolismo della grotta nell'eneide Enea prima di scendere agli inferi si imbatte nell'antro della Sibilla dove vede rappresentato questo labirinto e che cosa vuol dire tutto questo viene detto a Enea di non guardare il simbolo ma di verificarlo in qualche maniera di per fare quel percorso che percorso è abbiamo detto al centro di noi ma lì c'è un vero e proprio progetto è inutile dire che ho messo anche il labirinto sotto il Sator per conferma questo che vedete è il labirinto cretese il più famoso labirinto legato al mito del Minotauro di Teseriana ma c'è un mito nordico il mito del mulino il mulino di Amleto il mulino di Amleto che parla di queste pale che ruotano nel cielo tracciando cerchi e rappresentano in particolare il movimento delle stelle circumpolari che prendendo come asse come punto centrale la stella polare appunto ruotano tutti intorno e che cosa dicono i miti nordici qua vediamo il Kelaval ma altri ancora che era girato da sette sorelle sette gigantesse che a un certo punto vengono prese dalla rabbia per fare questo lavoro ripetitivo e allora cominciano a girare all'impazzata e il mulino di Amleto che è quello che dà il giusto ritmo al creato la musica del cielo delle sfere celesti esprime il giusto ritmo euritmos è proprio un'espressione che si trova negli autori greci esce fuori dall'asse e precipita nell'oceano e va a formare quello che conosciamo come il maestro il gorgo che tutto assorbe si sta parlando di una fase della creazione che è un'età dell'oro dove il mulino macina farina e abbondanza uscendo dai cardini entra nell'acqua e quindi macina sale per arrivare fietre è il passaggio dall'età dell'oro a quella che con essiodo chiamiamo l'età del ferro il passare da un'età aurea di bondanza di felicità a un'età di sofferenza perché nasca poi una nuova creazione ebbene in questi miti nordici si parla delle pale del mulino allora prendendo il vocabolario di greco che uso più adesso che quando stavo al liceo classico ho visto che l'abè o l'abisso è una parola che vuol dire pale inizialmente non capivo sono le pale euritmos del giusto ritmo espressione che si trova nei classici le pale del giusto ritmo sono quelle di questo mulino che traccia nei cieli l'armonia cosmica è un'etimologia che propongo agli studiosi però mi sembra molto pertinente assolutamente sì è proprio tutto quello che abbiamo raccontato stasera fa parte proprio di questa simbologia di questa geometria sacra insomma ce l'hai raccontato veramente con passione perché ho visto che l'argomento ti ha interessato molto quindi io ti ringrazio di essere intervenuto questa sera con la nostra trasmissione sì sarà chiaramente l'invito casomai per una prossima trasmissione in diretta questa per una registrazione e quindi casomai facciamo intervenire anche il pubblico vediamo se ci sono delle domande particolari che vorranno farti quindi ti rinnovo i ringraziamenti Maria Grazia volevo giusto saluto tutti sì quindi io saluto anche tutti gli amici di TV City che ci hanno ascoltato a fine adesso e noi ci rivediamo il prossimo giovedì con Salvatore Perillo e Ciro Caglione buona serata a tutti salve ciao arrivederci a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.